La chiusura delle scuole a causa dell'emergenza coronavirus potrebbe protrarsi oltre il 15 marzo, date inizialmente fissate dal Ministero dell'Istruzione. L'ipotesi è quella di lasciare gli istituti di ogni ordine grado vuoti fino al 3 aprile, con il ritorno sui banchi di scuola lunedì 6 aprile, nella settimana che poi porterebbe alla Pasqua. In caso di proroga anche le date delle prove in valse andrebbero nuovamente cambiate. Al MIUR intanto si studiano soluzioni per affrontare la maturità e gli esami di terza media. Secondo le stime dell'Istat, a gennaio 2020 le vendite al dettaglio vedono una variazione congiunturale nulla in valore e un lieve aumento in volume, più 0,1% rispetto al mese precedente. Su base tendenziale, nel mese considerato si registra una crescita dell'1,4% in valore e dell'1,3% in volume. Rispetto a dicembre 2019 le vendite di beni alimentari crescono sia in valore che in volume, più 0,8%, mentre quelle dei beni non alimentari diminuiscono dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume. 9 persone su 10 nel mondo hanno pregiudizi verso le donne. A sostenerlo è un rapporto ONU presentato dagli UN Developing Program, basato sui dati raccolti in 75 paesi, secondo cui il 91% degli uomini e l'86% delle donne coltiva ancora almeno un elemento di pregiudizio verso l'universo femminile, dato sconcertante in un'epoca in cui si tenta di raggiungere l'uguaglianza di genere. Secondo lo studio, l'80% del campione intervistato è convinto che gli uomini siano leader politici migliori, il 40% che lavorino meglio in posizioni dirigenziali e il 30% pensa che sia accettabile per i mariti picchiare le mogli. Il mondo del cybercrimine sta cambiando. Ormai la più grande minaccia per i sistemi informatici non sono più i classici hacker o i piccoli gruppi, ma decine di organizzazioni transnazionali, multinazionali confatturati a 10 cifre e mezzi illimitati, stati nazionali con apparati militari ed intelligence. Questo è il preoccupante scenario tracciato dall'ultimo rapporto del Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Il report evidenzia che nel corso del 2019 gli attacchi informatici gravi riportati nel mondo sono stati 1670 e di questi l'83% rientra nella categoria del cybercrimine.